uno studio scientifico ultimamente negli ultimi anni ribadisce che c'è stato un calo drastico dei consumi di acqua frizzante e si avete capito bene praticamente succede così problema reazione soluzione allora adesso andiamo a parlare del problema non so quanti di voi è capitato quanti di voi capita tuttora di andare a comprare dell'acqua frizzante al supermercato arrivare a casa apri l'acqua cioè apri la bottiglia e non fa neanche cioè non lo fa e già lì ti cadono proprio avete capito cosa ti viene un pochettino la malinconia no vabbè magari uno dice vabbè chi se ne frega del rumorino andiamo a provarla la mettiamo nel bicchiere e le bolle non ci sono ma dove sono ste bolle probabilmente non ci sono ma sarà frizzante comunque poi andiamo a berla e non è frizzante e quindi la reazione a questo tipo di problema è quella di non comprare più l'acqua frizzante cioè mi sembra anche logico sì qualcuno dirà è ma lucio ma non è vero non sono tutte così è vero sì non sono tutte così c'è da dire che però se andiamo a prendere una bottiglia d'acqua frizzante una delle più frizzanti in assoluto è anche vero che a distanza di poche ore perde la gasatura cioè non è che sto dicendo cavolate e ora arriviamo alla soluzione mi è appena arrivato questo pacco vi lascerò un link nella descrizione di questo video per poterlo acquistare anche voi direttamente col mio link ok è andato via il microfono diciamo cosa che capita oh la non so se voi già potete intravedere questa è la soluzione definitiva un attimo solo se riesco eccola qua mettiamo un attimino di qua questo qua non serve più quindi andiamo a vedere subito che cosa c'è all'interno libretto di istruzioni una bella bombola due bottiglie lavabili in lavastoviglie guardate da un litro dovrebbe essere un litro comunque poi verifichiamo no sono 840 ml vabbè comunque quasi un litro uh la la un'altra bottiglietta adesso vi dico però l ml giusto 450 ml quasi mezzo litro e poi abbiamo il gran macchinario che è qui dentro questo via questo è quello che contiene attualmente il pacco che poi andrete ad ordinare quindi due bottiglie di plastica da 840 ml quasi un litro e una da quasi 500 ml con gas appunto per andare a gasare l'acqua questo è il prodotto che secondo me a livello proprio estetico di stile è tanta roba veramente bello secondo me in cucina nelle cucine di tutti noi sta molto bene e andiamo a vedere un attimino come funziona ok allora amici iniziamo a rimuovere questa plastica ora rimuoviamo il coperchio posteriore che è questo qui vedete alziamo questo inseriamo il cilindro dalla base quindi in questo modo andiamo ad inserire bene la nostra bombola come potete vedere inserita molto bene abbassiamo questa maniglia per bloccare posizionare di nuovo il coperchio posteriore e quindi andare a chiudere in teoria il gioco è fatto ora dobbiamo andare a mettere la bottiglia contenente dell'acqua fredda mi raccomando l'acqua deve essere fredda io comunque vi consiglio di dare una pulita date una sciacquatina al volo una volta fatto ciò dobbiamo assicurarci che questa parte in plastica non sia all'interno ma sia all'esterno ok ora dobbiamo andare a mettere la bottiglia in questo modo e poi chiuderla vi faccio rivedere il passaggio allora bottiglia andiamo a inserirla in questo modo non serve abitare mi raccomando una volta fatto ciò io la sto tenendo in alto è cioè la sto tenendo verso l'alto sentite ok in questo modo non cade passo le dita sotto quindi è in sospensione basta la bottiglia è completamente attaccata ora possiamo andare a gasare la nostra acqua questo pulsante fa sì che la nostra acqua diventi gasata se lo premiamo per un secondo e lo rilasciamo sarà leggermente frizzante se lo premiamo invece per tre volte l'acqua sarà molto più frizzante comunque adesso andiamo a vedere insieme il tutto bene amici siamo arrivati al momento dell'assaggio prima però di assaggiare quest'acqua io voglio parlarvi dei lati positivi di questo prodotto quali sono i lati positivi quali sono i lati per i quali dobbiamo veramente soffermarci e andare ad acquistare questo prodotto ve lo dico subito innanzitutto è una questione diciamo di stile guardate che design è bellissimo questo design perché in cucina fa tanta scena nelle vostre cucine ma anche nella mia cucina fa tanta scena poi farò la foto e vi farò vedere in questo video come sta bene nella mia cucina nella mia vorrei anche di mia moglie perché sennò poi si offende che quello che mio è mio quello che è suo è mio avete capito comunque stavamo dicendo poi c'è la possibilità di non acquistare più tanta plastica perché perché noi avremo solamente tre bottiglie quelle in dotazione con questo prodotto le due grandi e quella piccolina come avete visto all'inizio quindi non dobbiamo comprare più nessun tipo di bottiglia ma soprattutto una bella cosa per l'ambiente il rispetto dell'ambiente non ci saranno più milioni di bottiglie di plastica in giro per il mondo perché questo prodotto eliminerà appunto questo tipo di problema quindi avete capito bene ma poi l'altra cosa importante che non va con la corrente elettrica cioè raga questo prodotto lo potete mettere dovunque anche in macchina che ne so in cantina in box dove volete insomma avete acqua gasata sempre bene adesso andiamo a vedere innanzitutto come si sgancia la bottiglia la bottiglia vi consiglio tenete qua un attimino prendete la bottiglia da sotto la sganciate in questo modo e la lasciate andare più semplice di così cioè raga già versarla c'è veramente una goduria e mo la beviamo finalmente ho l'acqua gasata a casa mia e la potrò avere in qualsiasi ora della giornata credetemi link in descrizione andate subito ad acquistare questo tipo di prodotto mi raccomando fatelo perché c'è lo sconto c'è un forte sconto in questo momento in dotazione come vi ho detto prima ci sono due bottiglie più una piccolina più dei tappi vedete che cosa servono i tappi servono per chiudere le bottiglie normale chiusa bottiglia e io la bottiglia la posso mettere nel frigorifero di nuovo così che io stasera la possa riprendere e possa berla ancora una volta un'altra cosa importante attraverso l'acquisto di questo prodotto potete ulteriormente aggiungere degli ciroppi voi dovete sapere che c'è la possibilità come potete vedere qui di avere la 7up la pepsi max la pepsi normale e poi altri gusti perciò potete sbizzarrirvi ma che ve lo dico a fare bene amici ora io vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un bel like e commentate questo video ciao a tutti dal vostro lucio messina e dalla mitica soda stream terra ciao a tutti